ciao benvenuto nel mio canale youtube ti invito ad iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti che farò su un post al sole e non solo finalmente possiamo dire che abbiamo ritrovato il nostro roberto ferri il roberto ferri che conosciamo finalmente si è svegliato è tornato in sé era ora perché non ne potevamo più di vedere roberto continuamente manipolato girato e rigirato da lara a suo piacimento finalmente roberto ha aperto gli occhi e abbiamo visto questa settimana prendere la decisione giusta cioè quella di fare i test del dna per sapere se lui realmente il padre di tommaso o meno finalmente ci è arrivato roberto ha capito diciamo tutto è fondamentale secondo me sono state le parole di suo figlio filippo c'è stata una bellissima scena tra i due durante la quale roberto confida filippo che insomma stava prendendo in sé la considerazione le parole di marina che è stata la prima a rivelare a roberto i suoi dubbi insomma che secondo lei appunto roberto non è il padre di tommaso e lara non è nemmeno la madre e roberto sappiamo comandata che non le ha assolutamente creduto anzi ha allontanato marina del tutto accusandola di essere una pazza marina poi successivamente ha raccontato tutta la storia tutti i suoi dubbi anche a filippo che però invece al contrario di roberto gli ha creduto e così insomma cercato di far ragionare il padre dicendogli guarda prendi in serie a considerazione quello che ti ha detto marina infatti tornando alla scena di cui ti accennavo prima c'è stata questa questa bellissima scena secondo me dove roberto appunto si si apre completamente con il figlio filippo dicendogli io ho intenzione c'è da una parte vorrei fare il test per sapere la verità se la mente sono il padre dall'altra ho paura di scoprirlo perché se non c'è se se venisse fuori che non sono io il padre mi crollerebbe completamente il mondo addosso in quanto sono super affezionata affezionatissima questo bambino e inoltre sto vivendo questa paternità come una nuova possibilità di fare il padre come non ho mai fatto cioè fare realmente il padre senza commettere tutti quegli errori che ho commesso con il resto con gli altri miei figli infatti sappiamo benissimo che roberto ha sempre stato assente nei confronti dei suoi figli ha sempre messo davanti a loro la famiglia e già davanti il lavoro alla famiglia e ha sempre avuto dei rapporti veramente molto complicati con i con i suoi figli e invece questa volta ma la notizia insomma di questa nuova paternità lui c'è la la vissuta appunto come un'occasione che non poteva perdere un'occasione di riscatto ed è per questo motivo che roberto comunque ha preso del tempo per per decidere se fare se procedere o meno a fare il test e secondo me è stata fondamentale veramente la risposta di di filippo sono state fondamentali le sue parole perché insomma filippo ha detto posso capire le tue ragioni però innanzitutto non puoi restare con questo dubbio per tutta la vita e inoltre questo bambino ha tutto il diritto di sapere chi sono realmente i suoi genitori e da dove viene e infatti roberto insomma è stato colpito dalle parole di filippo e successivamente abbiamo visto poi la scena dove roberto comunica filippo che non ha fatto altro che ripensare alle sue parole e ha deciso così di fare il test test insomma che speriamo si faccia perché insomma il problema che lara sa che roberto vuole fare questo test del dna e roberto qui insomma non ha giocato bene le sue carte perché c'è stata la scena in cui lui cerca di prendere un oggetto del piccolo tommaso nella borsa del cambio e mentre sta mettendo le mani appunto nella di questa borsa arriva lara che lo scopre e richiede che cosa stia facendo e roberto lì a posto di magari inventarsi qualsiasi una scusa le ha detto che lui vuole fare il test del dna quindi lara insomma sa di questa cosa e insomma davanti a questa notizia lara si è trovata completamente spiazzata ha cominciato a inventare scuse su scuse addirittura ad accusare marina che secondo lei marina ha messo delle strane idee in testa roberto che roberto crede più a marina che a lei addirittura siamo arrivati a questo punto insomma infatti roberto dice ma se non hai niente da nascondere che il problema c'è che io ho deciso di fare il test cioè posso fare anche 100 test del dna ma risulta in teoria la risposta dovrebbe essere sempre la stessa cioè io sono il padre di tommaso quindi se tu non sei tu lara non hai nulla da nascondere dovresti reagire in questa maniera anzi dovresti prenderla questa cosa come un'occasione per te di riscatto per far vedere a tutti che tu non stai nascondendo niente e quindi roberto vedendo la reazione di lara ha già capito senza dover fare il test quale sia la verità roberto comunque intenzionato a procedere a fare il test e e lara alla fine di questa scena ha preso il piccolino tommaso dicendo roberto che non cioè che lei andrà via e non rivedrà più tommaso il battesimo è arrivato poi il giorno del battesimo nel piccolino qui però il battesimo è saltato dopo tutto quello che è successo e adesso lara sta cercando di organizzarsi e attuare organizzare un piano per mettere il bastone tra le ruote a roberto poi c'è stata secondo me una scena fondamentale in tutta questa storia scena tra filippo e serena che stanno commentando tutto quello che è successo cioè il fatto che il battesimo comunque si è saltato che roberto ha deciso di fare il test del dna e ci sono loro due che parlano e dicono anche ma c'è come è possibile cioè che che mente malvagia a lara che è arrivata al punto di comprare un bambino facendolo passare per il figlio di roberto tutto questo per tenersi roberto accanto cioè veramente una mente malvagia e a un certo punto c'è stato c'è stata l'intuizione di serena che dice ma se lara non è la madre di quel piccolo tommaso chi è la vera madre e a questo punto l'intuizione di serena che spunta fuori dicendo e se fosse ida la vera madre di tommaso cioè in effetti noi cosa sappiamo di questa di questa idea è stata fuori da nulla all'improvviso è stata licenziata l'altra babysitter e per assumere lei inoltre inoltre serena sappiamo che aveva visto al parco aveva notato ida al parco col piccolino che insomma aveva un atteggiamento troppo affettuoso nei confronti di questo bambino per essere una babysitter e infatti lì in quell'occasione serena ha fatto bene aveva fatto benissimo a parlarne con roberto e quindi finalmente serena ha l'intuizione giusta finalmente qualcuno ha riuscito cominciato a chiedersi che sia realmente questa ida quindi grande serena era ora che qualcuno si facesse questa domanda e quindi ida a questo punto corre seri pericoli perché molto probabilmente serena e filippo dovranno insomma comunicheranno meno mi auguro comunicheranno la loro intuizione di serena a roberto quindi gli dovranno dire guarda secondo noi ida è la madre del piccolo tommaso e a questo punto prepariamoci a veramente a colpi di scena a raffica perché a questo punto roberto non solo dovrà vendicarsi nei confronti di laura ma dovrà vendicarsi anche nei confronti di ida e quindi chissà cosa potrà accadere davanti a tutte queste novità io voglio chiederti che cosa ne pensi di tutto questo quali sono le tue ipotesi su cosa potrà accadere da qui a breve scrivi tutto nei commenti che io ti leggo molto volentieri e inoltre è stupendo scambiarsi le opinioni su una soap su qualcosa che si sta guardando con passione quindi scrivi tutto ti raccomando nei commenti iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao